a tutti, bisogna necessariamente fare chiarezza su quello che sta succedendo in queste ore negli uffici dei nostri servizi sociali in tutte le municipalità. Sono decine e centinaia di persone che si riversano nei nostri uffici chiedendo di essere presi in carico dai servizi sociali in seguito ad un messaggio ricevuto dall'Inps. Il messaggio è questo. Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 2023 in attesa a eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Allora, chiariamo bene questa situazione. È inutile andare dai servizi sociali. I servizi sociali questa misura la subiscono, ma c'è da chiarire che chi ha perso il reddito di cittadinanza è ritenuto occupabile, cioè ha tra i 18 e i 59 anni di età, non ha persone disabili a carico, non ha minori a carico e potrà ricevere 350 euro al mese come supporto alla formazione al lavoro attraverso gli sportelli del centro per l'impiego e l'Inps. Mentre ricevono ancora il reddito di cittadinanza fino a dicembre le persone che hanno a carico dei minori, che sono delle persone ultra sessantenni e che hanno a carico o nel nucleo familiare delle persone disabili. Queste persone dal primo gennaio 2024 riceveranno un contributo non inferiore a 480 euro, sempre però su segnalazione del centro per l'impiego rispetto alle loro fragilità attraverso una piattaforma che sarà in collegamento tra centro per l'impiego e servizi sociali. Allora io vi chiedo di non invadere i nostri servizi sociali. Gli assistenti sociali sono dalla parte dei cittadini ma in questo caso non possono fare nulla. La presa in carico delle persone aventi diritto avviene attraverso una piattaforma che viene gestita prima dal centro dell'impiego del lavoro e poi arriva ai servizi sociali. Le persone abili al lavoro saranno contattate dal centro per l'impiego o devono andare al centro per l'impiego ma non nelle sedi dei servizi sociali. Grazie.